Amici sportivi ben ritrovati in un nuovo episodio di Clash Royale che passione Come vediamo Davide sopra Come vediamo questo è il mio clan Se volete entrare siete i benvenuti Andiamo a spacchettare questo baule come si chiama No comincia da quell'omaggio No una e una No comincia da quell'omaggio Cominciamo a spacchettare questo baule di Arena 7 lo ricordiamo Ci riserva 57 ore Frecce E l'ultimo Gigante Royal bene benissimo mi serve proprio Oh perfetto Ora moschettiere 48 E orda di sgherri Andiamo a vedere quest'ultimo baule d'argento 52 ore 3 Gigante Royal che non fanno male E no questo no E ora andiamo con il più importante Quello signori Viola Lo vedete il baule Viola Dell'Arena 7 Andiamola a spacchettare tutto 500 ore Ricordiamo che se dovesse uscire la epica Due epiche o tre epiche prima dell'ultima carta L'ultima sarà leggendaria Se dovesse uscire due o tre epiche prima dell'ultima Andiamo a vedere che non ci sta uscendo nessuna epica quindi è molto difficile A Alucule Vediamo Alucule E vabbò è andata Alucule Spero nel Principe OHHHHH Spero nel Principe Nero Manco l'ho finita di E andiamo Tre Principe Nero Mamma mia signore Andiamola subito a potenza No non lo posso potenziare Porca merda Fammi vedere No però mi sa di si Premi premi 400 Fammi vedere statistiche Uh 70 Danno Danno lo scudo C'è più 20 Andiamo Che schifo Dai ah Anche se mi dovrei comprare le guardie al negozio che mi sono uscite che mi mancano Vediamo quanti c'è no? Vai premi 2 Dovrei avere 2 su 4 Mamma mia il Principe proprio quello che mi serviva Anche se O mi servono le guardie Vabbò e a mille di oro entro oggi si fanno Devo aprire un po' le d'oro E vabbò è andata così ragazzi Iscrivetevi e commentate se volete altri video simili Alla prossima